Rosita! Ma dov'è finita Rosita? Rosita? Ma si può sapere dov'è finita? Rosita? Ma non è proprio sicuro di volerlo sapere? Ma certamente! Devo proprio! Dica, è morta! Cosa? Questo mio corpo vedrà il salvatore Come è potuto succedere? Lei per me era qualcosa di speciale, per me era... tutto Abbiamo saputo del lutto, signore! Ci è dispiaciuto un sacottino! Mi mancherai, Rosita! Ma posso sapere almeno com'è? È morta! È finita nel forno con i galletti! E...